Buongiorno ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video vlog baby Eccoci ragazzi tornati finalmente con il secondo daily vlog ragazzi Oggi è il secondo giorno dei daily vlog, tutti casati, tutti nei commenti Hashtag daily vlog perché faremo i vlog tutti i giorni Quindi nei commenti ripeto hashtag daily vlog Comunque oggi siamo qua con un video richiestissimo Verso non l'ha richiesto nessuno, me lo sono inventato Però mi chiedete perché ho una manica su e una giù eh Però comunque questo video è abbastanza richiesto Cioè ricreare i musical.ly della mia ragazza Quindi non sarà un vlog dove andrò in giro Cioè non sarà proprio un vlog Sarà una cosa che io appoggio alla telecamera, mi siedo e li ricreo Cioè li rifaccio Se non sapete che cos'è musical.ly o tiktok raga è uguale È una piattaforma social dove fai tutto e tutto Muove il telefono e fai musical.ly cioè dei video dove parli sulle canzoni Non lo so vabbè raga Comunque li faccio anch'io i musical.ly insieme al mio miglior amico SESPO Quindi se mi volete andare a seguire va l'ESPO trattino basso official E già che ci siete seguitemi anche su Instagram valerio.mazza Raga perché no? E aspetta già che ci siete iscrivetevi anche raga Tutto tutto il momento il momento dove mi spammo tutti i social Comunque raga stavo dicendo questo qua sarà il video di oggi Ho scelto 5 musical.ly a caso Non li ho ancora, cioè li ho visti una volta Li ho salvati e ora li ricreiamo Capito? Li dobbiamo fare identici Ah comunque raga la mia ragazza è Marta Losito Perché non lo sapesse andare a cercare su Instagram È la beggio sorca Questa qua è la mia stanzetta nella vlog house Raga guardate che carina Tutto io appoggerò la telecamera C'è qua faccio Ok sono figo, sono figo Dai Oh no Stavo per fare i musical.ly col portafoglio Non mi chiedete perché lo posso Qua c'ho il telefono pronto E quindi io direi di iniziare con il primo Musical.ly Ah raga in un musical.ly ci sono due persone Quindi dovrò andare a chiamare qualcuno Chi volete raga commentate adesso Fermate il video e commentate Chi volete Seles porosalvo a Montesi Che sono i miei tre conchilini Comunque raga grazie 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 mille Non ve l'avevo ancora detto Grazie veramente grazie grazie mille Con il secondo giorno dei televlog Il primo televlog vi è piaciuto tantissimo Sta già tipo a 200.000 views in 24 ore Grazie davvero No no tipo 180 Però arrotonniamo sempre in su E secondo grazie veramente tanto per i 300.000 iscritti Ragazzi siamo arrivati a 300.000 iscritti Che era il mio obiettivo per fine anno Quindi imponiamoci un nuovo obiettivo Come facciamo sempre 400.000 iscritti prima della fine dell'anno ragazzi Fermate il video Andatevi a iscrivere Grazie Ok si inizia con number one Il numero uno è questo che vedete sullo schermo Oh raga prima che quel salame di Montesi mi interrompa Se stavamo dicendo Voi avete visto il music di adesso no? L'ho scelto uno abbastanza complicato Perché si deve cambiare il colore dello schermo Non so come si fa bene Ah raga io faccio music lì fra virgolette faccio Ah tiktok Non music lì sono abituato scusate Faccio tiktok No raga io le chiamo music lì non ce la faccio Faccio music lì però non è che li faccio Cioè appoggio il telefono e faccio Invece questi qua con il movimento Sono abbastanza difficili Quindi è quello che avete appena visto sullo schermo Ora proviamo a rifarlo Fatemelo riguardare un po' L'ultima volta Ok Allora devo fare Ok 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 Sono pronto Sono pronto Ok Ok Poi c'è la luce bella in faccia E' bellissima Quindi c'è Ah che schifo Ah Che schifo Questo Uh L'ho fatto raga Sono un fenomeno Sono un cazzo di fenomeno raga No raga Questo quello lo devo salvare Come cazzo si salva Oh mio dio raga Lo vedete Vedete Questo è il risultato sullo schermo raga Lo dovete vedere Daie porco due che spettacolo Oh mio dio Sono contentissimo del primo Li potete vedere uno vicino all'altro Sono assurdi raga Bellissimo Ok Pubblicato Adesso si va al numero due ragazzi O il primo è stato un successo assurdo Cioè magari non lo so Perché io non li ho visti uno vicino all'altro Lo vedrò quando il video è finito Però per me è stato stupendo Ora proviamo l'altro qua A cambiare dei capelli da biondi a neri Allora questo è difficile perché ci sta una transition Per chi non sapesse cosa è una transition è quando tipo fai Tipo muovi il telefono veloce Questo è veramente difficile Però ci proverò Ragazzi siete pronti? Ecco il vostro muser Hashtag Valerio Muser nei commenti Ragazzi sono il cazzo di fenomeno di music film No raga scherzo Mi vergogno È una cosa cringe assurda Mi fa schifo fare i music film Però Tutti pronti? Com'era? Ok E poi qua cambia location No raga Io sono più forte di lei Raga ve lo giuro sono più forti di lei La transition è perfetta I movimenti sono perfetti Molto meglio di lei Te lo giuro Scusa amore però è vero Siete pronti? Ah cazzo raga Il numero 3 è un Musical.ly Musical.ly Raga se voi mi rompete nei commenti Perché è musical.ly e non musical.ly In realtà è musical.ly Io so come si dice in inglese Il vero modo di dirlo è musical.ly Non musical.ly Capito? Quindi non mi sbloccate Comunque sto dicendo Il prossimo musical.ly Sarebbe un musical.ly che ha fatto lei Insieme a la sua amica Virginia Montemangi Quindi mi servirà un compagno ragazzi Fatemi leggere un po' i commenti Che avete messo prima Aspetta Mi sa che non è tutto di sespo Così ci può anche essere il momento valespo Ok? Quindi bisogna andarlo a chiamare Raga bisogna andare a chiamare E te spino Raga Cioè sespo Vogliono te vieni qua Non mi vuole nessuno Eh lo so Manco io Ah ma te c'è ancora la febbre? Sì Hashtag sespo riprenditi nei commenti Perché è morto da Oddio scotti come lo schifo Me l'attacchi per favore Già l'ho attaccata a Marta Ehi dai Questo non si dice A proposito di Marta Sto ricreando i suoi musical.ly oggi E me ne serve Cioè c'è uno che devo ricreare insieme a te Dove ci sta lei con Virginia E quindi non dobbiamo fare uguale In italiano In realtà è un balletto Io sto in pigiama Vabbè è facile Ok te sei Virginia E io sono morto Siamo fammelo rivedere Allora Pensa così guarda Ok Ok Raga questo qua È il musical.ly che dobbiamo copiare E adesso noi proveremo a copiarlo Momento Valespo del video Scrinciutate questo Attaccateci su Instagram Valerio.mazzaespo Dovina chi si è presa la febbre dopo questo bacio E vabbè Ne è valsa la febbre Vai frasi è pronto Bellissimo Perfetto Raga questa qua è la prima prova Guardatela Ok È uscito malissimo Dobbiamo rifiutare Ora riproviamo Raga Vabbè perfetto È bellissimo Raga Ok Quello che vedrete adesso È il secondo tentativo Che è venuto un po' meglio Stupendo L'abbiamo fatto esattamente uguale Queste qua sono i due music Il suo E il mio messi vicino Ok Io mi sono sbagliato Sì ma noi eravamo così Molto meglio di loro Beh comunque l'abbiamo postato Ok L'abbiamo postato sul nostro profilo Anderci a seguire Valespo Trattino un passo ufficiale Siamo quasi a 450 mila follower Andate adesso Ok puoi andare fra Posso tornare a morire Prima che mi riattacchi la febbre Già sento Grazie a te bro Yeah Siamo ancora vivi Io sto sudando L'abbiamo Avete mai sudato per fare un music No Ah musicali Come vogliono loro TikToker Ah tiktok Ti cazzo è vero Ok ragazzi siamo all'ultimo musicali 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 Ok questo è facile Questo è veramente facile Questo qua l'ha fatto a un evento Che avevamo insieme a Taranto Il nostro primo evento Della double tap insieme Allora devo fare così Yeah Un po' il copro così con la telecamera E va fuori Aspetta fammi vedere Ok però lei c'aveva un panorama bello Perché stavamo in un hotel Mentre io vi farò vedere la mia stanza Ragazzi il peggio room tour su musicali Ma che volete di più dalla vita Oddio Mi ha preso il crampo Mi ha preso il crampo al braccio Però Regà sono ufficialmente Il muser più forte d'Italia Levatevi tutti Numero 1 Valerio Mazze Ragazzi Yeah Mamma mia Ora ve li faccio vedere uno vicino all'altro ragazzi C'è stato più forte io e lei Commentate Raga sono distrutto Sono tornando oggi da Catania Perché ho avuto un evento Questo video è stato fatto all'ultimo secondo Però mi sono divertito una fracca Ci ho messo un'ora a registrarlo Veramente tantissimo A voi sarebbe stato pochissimo Ma in realtà è tantissimo Tempo di chiamare Sespo Di fare tutto sto casino Cioè veramente Ora finalmente posso andare a dormire No Scherzo Devo registrare un altro vlog Ok raga Comunque Lasciate minimo 25.000 like Per un altro video del genere Per un altro video dove Non è vlog in giro Perché questi sono i video che posso fare anche di sera Perché adesso si sta avvicinando l'inverno E quindi i vlog saranno molto più calmi Perché raga L'estate abbiamo la casona Quindi possiamo andare in giardino l'inverno Piove sempre Siamo a Milano E quindi ci dobbiamo calmare Però tutti casati per i daily vlog Quindi nei commenti Hashtag daily vlog Raga Questo qua è tutto Vi vorrei ringraziare il supporto Davvero sia su Instagram Che su Musicly Che su TikTok Che su tutti i social Grazie veramente Stiamo andando benissimo Continuiamo così Per favore Arrivederci Primi nel mondo Spero che questo video Vi sia piaciuto Se volete un altro video Lasciate like In questo istante E vi mando un bacione Via A presto A presto A presto A presto A presto A presto A presto